Il Vibonese è uno scrigno di potenzialità non ancora del tutto espresse, tra bellezze naturali, monumenti storici, siti culturali, reperti archeologici. Ma è anche terra di eccellenze enogastronomiche, l'andoia di spinning, il pecorino del poro, la cipolla rossa di tropea, i fagioli di caria di San Nicola da Crissa, il tartufo gelato di pizzo e poi i fileia, i funghi di serra, i mostaccioli di soriano. Tutti simboli di un territorio legato alla terra, al mondo contadino, che ha prodotto e continua a fornire materie prime di qualità apprezzate ben oltre i confini regionali. Prodotti che necessitano di essere identificati e distinti all'interno del panorama caotico del mercato globale ed essere così meglio riconoscibili, potendo vantare una propria caratterizzazione. In questo senso intende lavorare il Gala Terra Viboresi che sta studiando la creazione di uno specifico marchio di qualità. Ci siamo accorti in questi anni che c'è un patrimonio immenso, ma è tutto scollegato e serviva dare un racconto ordinato, ma soprattutto dare qualità e servizi. Il Gala, attraverso le azioni che ha fatto in questi anni, oggi può raccogliere e può mettere a sistema tutto. Attraverso altri soggetti, ovviamente non vogliamo fare nulla solo. C'è un grande obiettivo, che è quello davvero di andare a raccontare la provincia di Viboprima, ma un'intera Calabria, in maniera forte, seria, per quella che di fatto è. Alla luce anche delle esperienze acquisite in questi anni, già 40 start-up finanziate e oltre un centinaio di aziende sostenute. Esatto, ci siamo accorti di fatto che poi non ci dobbiamo inventare nulla. Bisogna solo andare a riprendere e mettere in rete e fare davvero sinergia, quella sinergia reale, di quello che c'è e di quello che in questi anni siamo riusciti a finanziare. Perché è bello sottolineare che il Gal Terrivibonesi, il primo Gal in Calabria, in termini di impegni, abbiamo impegnato il 100% delle risorse. Quindi non è vero che i soldi della comunità europea tornino indietro. Quando c'è una visione chiara di quello che si vuole fare in questo territorio, le somme si impegnano e si spendono. Abbiamo finanziato oltre 100 realtà, aziende agricole, aziende di trasformazione e commercializzazione e davvero, lo dico spesso, sono nate oltre 40 start-up. Quindi aziende nuove, attrazione femminile, che questa è una cosa davvero, vado molto fiero, e anche tanti, tanti giovani. Quindi, secondo me, oggi siamo in un momento molto importante, c'è una sensibilità diversa e c'è davvero una fame di voler fare. Sta ovviamente a chi rappresenta un'agenzia di sviluppo, a chi rappresenta comunque delle realtà, sostenerle e supportare tutto questo che di fatto c'è e si sta muovendo.